Questa è la miglior paffone della tua gestione, visto la partita come è stata, come ci arrivavate con tre infortuni. Insomma direi che veramente qualitativamente nelle due metà campo si è vista una grandissima squadra questa sera. Sì, abbiamo conservato la stessa intensità delle prime tre partite e non era scontato perché oggi il livello si alzava, essendo Firenze migliore delle precedenti tre avversarie, è aumentata anche la qualità sia nell'esecuzione e soprattutto nella finalizzazione. Quando noi pensiamo che ci mancano due giocatori di qualità come Torgano e Milani, devo dire che oggi la loro mancanza non si è sentita perché chi l'ha sostituito l'ha fatto in maniera eccellente, sto parlando di Kevin ma sto parlando anche per esempio di Nicolò, di Arro e tutti gli altri, a cominciare da Simoncelli che ha sempre avuto una settimana un po' così, Marcello ha fatto un grande lavoro perché Marcello sta giocando tanti minuti contro dei pari ruolo più pronti fisicamente, magari sempre lo costringiamo a delle cose in difesa, mismatch, per cui chiaramente risalta la qualità che abbiamo messo in campo ma è una vittoria veramente difficile. L'anno scorso contro questa squadra, chiaramente noi eravamo una squadra diversa, allora era una squadra diversa, però la stessa filosofia, cioè cambiare su ogni situazione difensiva da parte della Fiorentina, tanta zona, ci aveva messo un po' in crisi. Questa sera devo dire che i ragazzi sono stati bravissimi a leggere la partita. Insomma era un po' un esame di maturità, perché comunque ci erano già state tre vittorie, però era un primo snodo importante in questa stagione, passato non a pieni voti di più, cioè con la Lode. Io ero molto contento, dopo la prima vittoria che vedevo delle facce un po' preoccupate, prima vittoria o legio come della vittoria importantissima in casa con San Giorgio piuttosto che ad Alba e oggi tenderei a, non dico a minimizzare, ma insomma una buona partita, però domenica cominciamo di nuovo, c'è un altro esame, siamo al 21 ottobre, per cui meglio essere 4-20-0 perse che 2-2 come l'anno scorso, questo è pacifico, però voglio dire è il 21 ottobre, per cui aspetterei ad esaltarci o a deprimerci quando succede che facciamo una partita magari dal punto di vista qualitativo non bella come quella di stasera. L'importante è mantenere la stessa aggressività, la stessa intensità, la stessa durezza mentale che devo dire che fin dal 20 agosto questi ragazzi hanno ottenuto.